Noi, questo è un campionato vincente, sapevamo che qui era veramente dura, infatti è stata una partita incredibile, poteva vincere chiunque. Noi non volevamo mandare un segnale ai nostri concorrenti vincendo oggi, volevamo mandarlo ai nostri tifosi perché loro devono sapere che nonostante un campionato difficilissimo, e devono sapere che noi ci siamo fino alla fine e ce lo giocheremo alla grande, questo perché poi abbiamo un grande gruppo, un grande allenatore, va dato merito a loro perché i protagonisti sono loro. Abbiamo questa grande caratteristica di squadra solida che in fase difensiva non concede niente e oggi probabilmente c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto, però ecco, ricordatevi pure che davanti avevamo una grande squadra, avevamo una squadra che volevamo assolutamente dominare e ci siamo messi in gioco perché abbiamo dovuto necessariamente rischiare. Rischiare significa che rispetto ad altre partite abbiamo osato di più e quindi quando osi di più poi gioco forza succede che qualcosa concedi. Diciamo che questa è una squadra attrezzata, abbiamo sempre detto che tutti gli effettivi sono potenziali titolari, nessuno escluso, anche in panchina oggi c'erano giocatori che hanno un curriculum importante, quelli che sono entrati sono entrati meglio forse di chi stava facendo bene in campo, per cui ecco questa consapevolezza noi ce l'abbiamo, può essere un'arma in più però ricordiamoci sempre che noi stiamo facendo un grande campionato come anche gli altri. Mi dovete credere, noi non guardiamo gli avversari, noi sappiamo che dobbiamo fare un'impresa, anzi dobbiamo fare tante imprese per raggiungere un sogno. Oggi ne abbiamo fatta una ma ne mancano tante altre, non abbiamo guardato assolutamente il Benevento, il Foggia perché sappiamo che il nostro destino dipende da noi. Favoritismi non ce ne sono, perché poi se ti aspetti che le altre perdono può succedere che c'è l'effetto contrario, dove tu pensi più agli altri e magari ti distrai su quello che devi fare tu. Invece noi oggi abbiamo dato dimostrazioni di forza, con gli attributi tutti quanti, perché ripeto, venire a giocare a Cosenza e fare quello che hanno fatto i ragazzi oggi non è facile. Significa avere amor proprio, significa avere un obiettivo che loro vogliono a tutti i costi raggiungere insieme al Ministero e di questo sono orgoglioso, perché il gruppo è un gruppo che va gratificato. Quanto hai aiutato la sua squadra? Adesso è troppo facile dirlo, io poi sono di parte, abbiamo preso il Ministero in un momento difficile della nostra stagione. Io lo conoscevo già, a differenza di tanti altri, lo conoscevo per averlo avuto da avversario. Lui è un allenatore che la Lega Pro la conosce come le sue tasche, i calciatori, ha l'esperienza da vendere nella gestione dello spogliatoio. E quindi ho avuto sensazioni positive già dal suo arrivo, immediatamente adesso che sono passate tante giornate, però lui da subito ha cercato di trascinarsi dietro il gruppo, ha cercato di responsabilizzarlo, di far crescere l'autostima in quei giocatori che hanno un carisma, una personalità importante. E questi sono i risultati, quindi va dato molto merito a lui di questa rinascita.